Chi ha sparato lo ha fatto senza alcuna esitazione, avendo ben presente quali fossero i bersagli della sua azione delittuosa. Diversi colpi di pistola calibro 7,65 sparati da una distanza pressoché ravvicinata. Nessuna possibilità di scampo per i due obiettivi di quello che è subito apparso agli occhi dei carabinieri allertati da una telefonata al 112, un vero e proprio regolamento di conti. Massimiliano D'Ascola, di 35 anni, e Giorgio Clemeno, di 31, pregiudicati con precedenti di droga, sono entrambi morti sul colpo. Al momento dell'agguato, avvenuto questa notte attorno alle tre e mezza, i due si trovavano per strada nei pressi del portone d'ingresso della palazzina del rione Ceppe di Archi, dove entrambi risiedevano. Si presume stessero conversando uno dei due dall'abitacolo della propria autovettura in sosta all'interno della quale è stato trovato cadavere. Sul movente del duplice delitto, i militari dell'arma non escludono alcune ipotesi. In particolare le indagini sono indirizzate al mondo dello spaccio di cui due pare facessero parte, essendo peraltro stati coinvolti in alcune recenti operazioni contro una rete di spacciatori operante sull'asse cittadino Arghilla-Archi. Clemeno, arrestato lo scorso aprile nell'ambito dell'operazione Eremo, proprio alcuni giorni fa era stato condannato dal GUP di Reggio Calabria, corrito abbreviato a tre anni e sei mesi di reclusione. I carabinieri però pare stiano battendo altre piste, tra cui quella della criminalità organizzata. Le vittime non risultavano affiliati a cosche della città, ma d'ascola, per gli investigatori, sarebbe stato vicino ad elementi della cosca Tegano, che opera proprio nella zona di Archi, quartiere della periferia nord di Reggio Calabria, tornato improvvisamente indietro di alcuni anni. 200 milioni a tanto ammonte il sequestro di beni disposto dal questore di Reggio Calabria, Carmelo Casabona, contro la cosca Commisso di Siderno. Tra questi c'è anche un noto centro commerciale, i portici, la cui maggioranza delle quote sarebbero riconducibili a presunti affiliati al clan sidernese. Ubicata nella struttura c'è anche la lavanderia intestata al presunto capoclan Giuseppe Commisso, 163 anni, detto Umastru, al centro delle intercettazioni raccolte nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso 13 luglio è scaturita nell'operazione Il Crimine condotta sull'asse Reggio Milano. Secondo gli inquirenti, all'interno dell'esercizio commerciale si sarebbero tenute alcune riunioni in cui si decidevano le strategie del gruppo criminale. Intercettazioni utilizzate anche nelle indagini che hanno portato all'operazione di due giorni fa, da cui sono emersi i nuovi assetti, tra altri due storici cartelli della Locri, dei Cataldo e i Cordì. Sette i presunti esponenti della Cosca Commisso, i quali sarebbero riconducibili 200 milioni di euro sequestrati, oltre a Giuseppe Commisso, il 38enni, Roberto Commisso e Carmelo Mouillat, Francesco Commisso di 27 anni, Giuseppe Albanese di 61, Antonio Futia e Vittorio Barranca, entrambi di 52. Si tratta di uno dei più pesanti colpi in Ferti e Clan dell'Andrangheta, ha sottolineato il questore Casabona nel corso della conferenza stampa, a cui hanno partecipato il dirigente e il vice dirigente della squadra mobile, Renato Cortese e Luigi Silipo, il dirigente del commissariato di Siderno, Stefano Dodaro, e il dirigente della divisione anticrimine della questura di Reggio, Benedetto Sanna. E' la finalità del nostro governo, quello di togliere alla mafia, all'Andrangheta, i beni che hanno accumulato illecitamente. Tra l'altro sono beni che vengono restituiti alla società, e come ho detto in conferenza, poc'anzi si sta cercando in modo di conservare l'attività commerciale che sono in corso e che sono attive. Il latitante Pasquale Barbaro, 33 anni di Platì, in provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del comando provinciale di Reggio. Era ricercato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti dal 2009. L'arresto è avvenuto a Platì, incontrada a Palumbo, località Serro Stinco. I militari hanno fatto irruzione all'interno di un'abitazione rurale dove l'uomo è stato arrestato. Barbaro, secondo gli inquirenti, era inserito nel contesto associativo, riconducibile al capo società Saverio Trimboli, 38 anni di Platì, a sua volta arrestato il 13 febbraio scorso. Barbaro è stato catturato all'interno di un nascondiglio, ricavato tra l'armadio e la parete in muratura della camera da letto. L'accesso al nascondiglio era costituito da un pannello incompensato movibile delle dimensioni di 1,80 per un metro. All'interno dell'abitazione erano presenti, al momento dell'irruzione, i più stretti familiari del latitante, che non era armato e non ha opposto alcuna resistenza. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un PC portatile ed apparati cellulari, binocoli e tute mimetiche, ritenuti utili al proseguimento delle investigazioni. Il presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, in una nota esprime soddisfazione per l'arresto del latitante Pasquale Barbaro e per il sequestro di beni per 200 milioni di euro alla cosca commisso. Ancora una volta, sostiene Scopelliti, sono le azioni concrete dello Stato ad indebolire la criminalità organizzata. Dopo il duro colpo inferto ieri ai casalesi, oggi è arrivato in Incalabria un doppio successo per la magistratura e per le forze dell'ordine, segno evidente che i risultati ottenuti in tutta Italia non sono casuali ma conseguenziali alla forte politica del governo Berlusconi nel contrasto alla criminalità organizzata. L'andrancheta in Incalabria, dice ancora Scopelliti, continua a perdere pezze per la nostra regione. Queste operazioni rappresentano ossigeno puro. Abbiamo assistito ad un grande gioco di squadra tra tutti i soggetti istituzionali che lancia un messaggio positivo ed incoraggiante a tutto il Paese.